In mane tragedia a Noto, in provincia di Siracusa, una bimba di 10 mesi è morta. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe ingerito della candeggina. La bimba è stata immediatamente trasferita al pronto soccorso, ma era troppo tardi. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per capire cosa sia successo nell'abitazione dove abitava la piccola. Gli inquirenti hanno interrogato i familiari, che sono sotto shock per la tragedia. Forse la bimba potrebbe essere caduta dentro un secchio pieno di candeggina, ma si tratta solo di ipotesi.